adesso stiamo prendendo la 35 esatto ha bocciato sono in tre stanno scappando ci sono tre persone a fronte si hanno bocciato una macchina l'ingresso internazionale 188 delta sierra andiamo sulla 35 verso 7 onda ha bocciato due macchine sono tutte e tre minori fermati qua adesso arriva la polizia anche a lui tu stai fermo giù per terra seduto sto rientrando perché stanno scappando a piedi allora stiamo rientrando siamo in direzione no il furgone è fermo in autostrada lì è la tendenziale stai fermo